Buongiorno! Io sono contro la violenza, per cui ho inventato uno strumento che distrugge direttamente la violenza, distruggendo direttamente il violento. Basta applicare questa spina sui testicoli del violento che una forte scarica di 380 vols lo raggiunge e lo distrugge. Quindi ci sarà un mondo di pace e di serenità.